Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna per traffico intenso, rallentamenti tra Calenzano e Barberino, prestare attenzione per nebbia a banchi segnalata sul tratto appenninico tra Ronco, Bilaccio e Aglio e fare attenzione anche per avverse condizioni meteo su quasi tutta la rete stradale regionale. Su raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e l'allacciamento A1 di Firenze in Prunita. Fino a metà febbraio la statale 1 Aurelia sarà chiusa a Pisa in corrispondenza del bivio per Coltano per lavori di ricostruzione del cavalcavia. Ricordiamo l'obbligo di dotazioni invernali a bordo, catene da neve o pneumatici stagionali. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!